Sì, in realtà sono il primo, perché i mariani della mia famiglia si chiedono tutti già. Io vengo con mia moglie e mio hijo, stiamo in Alvear, in generale in Alvear stiamo a scomparto, entro Boven e Alvear. E qual è il tuo imprendimento? Noi facciamo a plurale, perché sto con mia moglie, facciamo alfacores e noi sconfittata. E poi abbiamo altri prodotti che offrezziamo in feria, che sono la ciruela reggiana con con luce di lecce copierta con il cioccolato, e abbiamo anche altri tipi di Alvear, e oggi è quale uno, l'ultimo di frutta che ho avuto, è un nuovo prodotto che stiamo ofrezzendo, è saluto bene, quindi continuiamo facendo con la frutta di qui. Ustedes vanno decidendo i prodotti in base alla accettazione che hanno con la gente? Claramente, sono due fattori importanti, uno è l'accettazione, l'altro è che non ci piace fare. E adesso amiamo lo che facciamo e alla gente le piace, quindi seguiamo avanti. Come si chiama tu marca? Si chiama Trenguea, qui abbiamo un nome inventato, Trenguea. Trenguea. Mi figlio, piccino, è venuto dal giardino, cantando una canzone, Trenguea, Trenguea, Trenguea. E noi bautizziamo così la impresa. Que tengas molto èxito. Bueno, grazie, saluto a tutti. Nos esperiamo mattina. Grazie.